Silvio Berlusconi è stato oggetto di satire, studi critici, di sensi, consensi e perfino di brani musicali popolari, ma il mezzo che più di ogni altro lo ha raccontato è stato senza alcun dubbio quello cinematografico. Il Cavaliere è stato più che altro al centro di documentari che sotto forma d'inchiesta hanno cercato di ricostruire i passi del politico e le sue avventure-disavventure giudiziarie. Visto tutto questo, dunque, è naturale chiedersi se ha veramente senso realizzare un altro prodotto simile con SB, io lo conoscevo bene. La risposta di Giacomo Durzi e Giovanni Fasanella è assolutamente positiva, perché nella straordinaria ascesa del Cavaliere si nasconde un quesito che non può più essere negato, perché tutto questo è stato possibile proprio nel nostro paese. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.